Come era inevitabile, i maestri Shaolin mi hanno chiesto di unirmi a loro. Sanno che i novizi avranno in me una guida preziosa. Shujinko è stato uno dei miei primi allievi. La sua abilità di assorbire i poteri è straordinaria. Con la giusta preparazione, poteva diventare il nostro miglior campione. E solo io potevo addestrarlo a dovere. Ma con la sua abilità è cresciuto anche il... Infatuato della sua leggenda, Shujinko è divenuto una minaccia per tutti. Non conosce il valore dell'umiltà. E io non ho saputo insegnarglielo. Avrei dovuto dare ascolto agli ammonimenti di Raiden ed evitare di allenarlo da solo. Una volta sconfitto, Shujinko è stato privato dei ricordi e delle abilità. Ora è tornato un novizio, pronto a iniziare il suo addestramento. Stavolta, Raiden e io lo istruiremo insieme. Diventerà il campione che era destinato a essere. E attenderò al mio ruolo con umiltà e spirito di collaborazione. Grazie. 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 Grazie.